Il buio come simbolo della vita che apre e chiude la storia di Ginger e Fred, portata in scena a Brindisi presso il nuovo Teatro Verdi, dalla bravura di Monica Guerritore e Massimiliano Vado, in un perfetto stile felliniano, con tanti personaggi strampalati che mettono però in scena un fondo di verità che tocca la vita di ogni spettatore. Dal buio arriviamo e nel buio ce ne andiamo, sono i personaggi che ha concepito insieme a Pinelli, a Tonino Guerra, Federico Fellini ed è il compito che ci siamo dati io e soprattutto la regista Monica Guerritore che mi ha guidato in questa cosa. Il segreto di qualunque cosa, che sia teatro, cinema, televisione, è la scrittura e avendo una scrittura potente, un riadattamento anche di Monica Guerritore potente, ti senti protetto e come quando fai Shakespeare, anche se lo dici comunque non è sbagliato, sarà più potente o meno potente, ma comunque Shakespeare è blindato, ugualmente Fellini, ugualmente Pirandello, o ugualmente Eichburn, ci sono degli autori che rimangono immobili nella loro perfezione e Fellini è uno di questi per cui noi ce ne approfittiamo artisticamente. Grazie a tutti.